Ieri Tonino Lamborghini, la prossima settimana Massimo Moratti. Il sigillo d'Ateneo dell'Università di Urbino continua a premiare e valorizzare le grandi storie imprenditoriali che hanno reso grande l'Italia e il Made in Italy. Personalità forti, esterne al mondo accademico, ma che possono essere fonte preziosa di ispirazione per ambizione e creatività dei giovani. A cominciare da Tonino Lamborghini che ha tenuto ad Urbino l'Alexio Magistralis su quella che dall'eccellenza automobilistica è diventata un modello di brand extension. Il brand extension è un'importante onorificenza da parte di una grande università, di un'università storica, orgoglio italiano e soprattutto un riconoscimento italiano. Io ne ho avute altre, le ho avute dall'America, le ho avute una laurea d'onore, una dall'India, un'altra da un'università privata di Roma, però parliamo di università italiana e parliamo di un'università di Urbino. Scusate se poco, è motivo di grande orgoglio per la nostra terra, per la nostra nazione. È un'onorificenza che viene data a delle personalità, non necessariamente del mondo accademico, ma come il caso di oggi e della settimana prossima, degli imprenditori che si sono distinti nel loro ambito. Non ha un sigillo, quindi non ha un valore legale, qualcuno l'ha pensato che fosse l'equivalente di una laurea d'onore, invece no. È un riconoscimento però importante, basta vedere le personalità a cui è stato dato nel corso di questi anni per capire il livello di importanza di chi l'ha ricevuto il sigillo. Da Tonino a Elettra Lamborghini, percorsi diversi, stesse affermazioni di successo. Metaforicamente quello che lei ha deciso di fare lo sta facendo anche sua figlia. In un altro settore sicuramente Elettra è una dimostrazione pratica di cosa vuol dire portare un cognome importante, ma è stenderlo. Quindi immagino che lei sia fra il milione e mezzo di follower di Elettra. Naturalmente, sono molto orgoglioso, l'ho osteggiata parecchio, non riuscivo ad immaginare che potesse avere un percorso del genere, non posso che esserne orgoglioso, contento, felice, non la posso aiutare perché non vuole essere aiutata. Non mi ha mai chiesto niente. Quando mi sono proposto per dare un minimo, mi ha sempre detto no, sono cose mie, non voglio sapere niente. Lamborghini nell'ultima settimana è anche diventato, suo malgrado, un nome associato ad una delle vicende di cronaca più discusse d'Italia. Quella dell'incidente mortale di Casalpalocco in cui ha perso la vita un bambino di cinque anni, vittima di un comportamento giovanile che Lamborghini ha condannato senza mezzi termini. Una vergogna, una vergogna.